Questo programma contiene linguaggio volgare. La battaglia per l'amore di Lorena si infiamma e il tablet del terrore ha mandato Itai e Joy a sparare al piattello. Cosa potrebbe mai andare storto? Sono equipaggiato e pronto per sparare. Possiamo iniziare. Speriamo non si sparino a vicenda. Fatti sotto, Itai. Sei un uomo finito. Pull. Questo è per te, Lorena. Bam! Pull! Itai, prendi, bello, prendi. Non hai mira? Ciao, ciao, Joy. Sai che siamo 5 a 4, vero? Andiamo. Joy Essex, mi riprendo la mia donna. Mancalo, 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 mancalo. Vai così. Grazie. Siamo pari. Itai, non permetterò che torni alla villa pensando di potermi portare via Lorena. La sparatoria è finita in pareggio, ma sembra che sarà Lorena ad avere l'ultima parola su chi vincerà il suo amore. Sinceramente, sono un po' nervosa per questa uscita, perché Itai mi ha detto che è venuto qui per me e che mi vuole. Ora che quei due sono insieme... Non penso che Itai si farà in dia. Lui è un tipo davvero ostinato. Non penso che capisca ciò che provi. Non comprende che tu possa esserti innamorata così velocemente di qualcuno. Sì. Una cosa Itai sicuramente l'ha capita. Joy sta facendo sul serio. Ti ricordi quando hai conosciuto Lorena? Sì. Dove eravate? In discoteca. In discoteca. Siete diventati amici o è stato un colpo di fulmine istantaneo? No, da quando ci siamo conosciuti non ci siamo più lasciati. Beh, lei ti ha lasciato, amico. Insomma, è così? Prima di tutto io ho lasciato lei. Sto guardando Itai e penso... Ma che cavolo ci fai qui? Il feeling tra me e lei è iniziato il primo, secondo in cui l'ho vista. Immediato. Amore a prima vista. Amico, la conosci da una settimana? Sì, sì. Tu non hai idea di chi sia Lorena? Invece sì. Siamo stati insieme per un... anno. Itai, ho già sentito questa storia. Non riconquisterai mai Lorena. Vattene e anche subito. Ho una cosa da dirti. Sentiamo. Mi ha chiamato due mesi fa. Sì. Voleva venire in Israele. Sì. Riconquisterò Lorena. Ti vedo molto sicuro di te, Itai. Ma mi dispiace per te perché non vincerai. Portiamo questo a Lorena. Andiamo? Andiamo. Non vincerai mai. Davvero? Andiamo. No, noidences. Ecco. Ecco. Ciao.